Si conoscono e abitano nello stesso palazzo condominiale, anche se l'episodio sarebbe verificato in una villa ricadente sul territorio comunale di Sulmona. Lei, all'epoca dei fatti, ventenne del posto. Lui, 44enne, che è stato rinviato a giudizio nella mattinata di oggi dal giudice per le udienze preliminarie, Tribunale di Sulmona Giovanni De Rensis, per le ipotesi di reato di violenza sessuale, lesioni e furto. Una vicenda delicata che risale a febbraio 2021, denunciata dalla vittima che si recò in commissariato per raccontare le presunte violenze sessuali subite. Stando al quadro accusatori, 44enne a fronte di un diniego espressamente manifestato dalla ventenne, con violenza consistita nel sollevarla di peso, né porla sul tavolo della cucina, né toglierle con forza e leggings indossati dalla giovane, la costringeva a subire atti sessuali. Colpendola pure con uno schiaffo alla parte sinistra del volto, facendo pressione con i suoi pollici sui bulbi oculari della giovane, stringendole con le mani e il collo, sferrando le pugni sui fianchi, sulle costole e dietro la schiena, volontariamente le avrebbe cagionato delle lesioni personali, ovvero un trauma cranico facciale, giuricato guaribile in 20 giorni. Ma non è tutto. Sempre secondo il racconto della vittima, il 44enne, a fine di trarne profitto, si sarebbe impossessarlo del telefono cellulare della giovane, che è stato sequestrato dalla polizia nel corso della perquisizione domiciliare a carico dell'imputato, unitamente a una sostanza volverosa bianca contenuta in un barattolo di vetro, rinvenuta nella villa in uso all'uomo. Dal canto suo, il 44enne avrebbe negato ogni forma di violenza, anche le lesioni, nonostante il referto rilascerò da pronto soccorso dell'ospedale di Sulmone. Dagli accertamenti seguiti è emerso che il liquido seminale, captato con il tampone, non è riferibile all'imputato, come ha fatto notare l'avvocato difensore. Secondo la parte civile ciò sarebbe dovuto al fatto che il rapporto sessuale non si sarebbe concluso. Inoltre impronte dell'uomo sarebbero state rinvenute sui vestiti della donna, insomma l'accusa è solida per essere sostenuta in giudizio come disposto dal GUP. La prima udienza davanti al tribunale collegiale si svolgerà il prossimo 11 aprile.